Varie le problematiche che ogni giorno ADOC Taranto incontra. Abbiamo affrontato il discorso dei mutui con l'avvocato Francesca Bommino che è la responsabile dell'area legale di ADOC Taranto. Oggi vogliamo scendere di più nello specifico e affrontare la tematica del merito creditizio. Buongiorno, per quanto riguarda il merito creditizio questo argomento è legato fortemente, come diceva il dottor Abbate, ai mutui perché tutti gli istituti di credito, le società finanziarie che hanno il potere di concedere mutui o altre forme di finanziamento per svolgere questa attività hanno un obbligo nella fase precontrattuale, cioè quello di capire se il soggetto che si rivolge a loro ha la capacità materiale, concreta, di restituire il finanziamento. Per far questo l'ordinamento ha ideato uno strumento che si chiama Centrale Rischi. Non è altro che una banca dati gestita dalla Banca d'Italia che raccoglie un flusso di informazioni che tutti gli istituti di credito e le società finanziarie sono mensilmente obbligate a fornire. In questa banca dati gestita dalla Banca d'Italia appunto confluiscono i dati relativi ai finanziamenti e alle garanzie come le fidei uscione per esempio che riguardano finanziamenti di importo pari o superiore ai 30.000 euro. Perché? Non perché per i finanziamenti di importo inferiore non ci siano sistemi del genere, banche dati del genere ma perché per i finanziamenti di importo inferiore esistono delle banche dati gestite dalla società private, una fra tutti i CRIF che si occupa proprio di questi stessi dati riferiti ai finanziamenti di importo inferiore. Ora la Banca d'Italia come dicevo ha l'obbligo di gestire questa banca dati dove confluiscono tutti i dati relativi al tipo di finanziamento, alla durata e anche alla solvibilità del soggetto. Ciò significa che rientrano sia i dati positivi che quelli negativi. Quindi se un soggetto adempia regolarmente c'è la segnalazione perché è obbligatoria per questi finanziamenti ma verrà segnalato come un buon pagatore. Qualora il soggetto non adempia, non parliamo di un adempimento limitato a un singolo episodio sporadico ma il soggetto che non è in grado di adempiere viene segnalato come cattivo pagatore. Questo a cosa serve? Serve proprio alle società finanziarie per fare in modo che quando un soggetto si rivolge loro chiedendo la concessione di un finanziamento loro possono valutare se concederlo. Questo lo faranno ovviamente solo se questo soggetto risulta essere un buon pagatore. Le centrali rischi possono sembrare una cosa lontana dai cittadini ma non è così. Basti pensare anche quando un cittadino vuole un finanziamento per acquistare un'auto per esempio o un qualsiasi bene, si rivolge alle finanziarie e dicono c'è un problema, la somma richiesta non si può avere. Capita a volte, in ad hoc abbiamo avuto diversi casi, anche che i dati siano errati. Cioè che per un errore materiale di chi poi ha inserito i dati sia stato segnalato la persona sbagliata. Questo è molto importante perché al cittadino che viene rifiutato un finanziamento perché c'è una segnalazione negativa, viene detto, è obbligatorio fare questa comunicazione e qualora il cittadino si renda conto che la segnalazione è errata ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati. Non si può chiedere la cancellazione perché la legge impone che vengano conservati questi dati per tre anni ma la rettifica di dati sbagliati sì. A noi è capitato un caso di omonimia, un soggetto che aveva lo stesso nome e cognome del cugino nato nella stessa città, che era stato segnalato al posto di un'altra persona e in questo caso siamo stati costretti ad adire l'autorità giudiziaria abbiamo ottenuto la cancellazione ma anche il risarcimento.